A Torino la Didi Stellantis Tavares, l'incontro con i sindacati è l'attesa dell'annuncio della produzione a Mirafiori della 500 Ibrida per far ripartire l'impianto. E' finito proprio pochi istanti fa l'incontro a Mirafiori, allora proviamo a ricollegarci con Lorenza Castagneri. Lorenza? Rieccoci, stiamo con Ferdinando Ulliano, Fim, Cisle. Allora, che cosa succederà a Torino? C'è un'importante novità perché c'è stata confermata la produzione della 500 Ibrida, era una necessità che noi chiedevamo a Stellantis, è un primo passo importante per rafforzare la missione produttiva di Mirafiori. Chiaro che da questo punto di vista abbiamo altre discussioni in corso con il gruppo, le assegnazioni di altri stabilimenti per l'obiettivo del milione di veicoli che per questo chiederemo un incontro a Palazzo Chigi. Quando arriverà la 500 Ibrida? Nel primo trimestre del 2026. Grazie, è tutto.